buongiorno io sono un cittadino di santomero abito in via metella vecchia e a causa delle piogge dei giorni scorsi le strade comunali non sono state ancora ripristiate potete vedere dietro di me come sono ridotte parlando con l'amministrazione comunale con chi ha detto alla manutenzione delle strade mi ha detto che non può fare niente perché non hanno uomini e mezzi io non so più come fare per uscire di casa appena arriva quattro gocce di pioggia devo chiamare i vigili a fuoco per uscire devo dividere il comune di santomero è una condizione pietose e a e a a a a a a a Grazie.